Musica Bella a tutti ragazzi, bentornati nel Dark Channel, io sono Darkruci e benvenuti in questo nuovo vlog Come vedete sto in un'ambientazione sempre diversa, sono tornato al mare quindi scusatemi i capelli messi malissimo Vabbè, ho questo solo in faccia perché almeno mi vedrete molto ma molto meglio Questo vlog non so quanto durerà però è fondamentale perché io sono un genio ovviamente Cosa ho fatto? Ho formattato il mio pc e le serie che avevo attivo, quindi la Techit, la RetroCraft Vabbè, la X-Reloaded è finita perché è una serie Steve e quindi è finita qua Però la Techit e la RetroCraft purtroppo non mi sono salvato i salvataggi sulla disc Ho salvato tutto quanto che dovevo salvare, c'avevo anche altro spazio ma non l'ho salvato Quindi, capra ignorante, ignorante Purtroppo finiranno anche queste due serie insieme alla X-Reloaded purtroppo Però da settembre, da settembre inizieranno altre serie nuove Perché comunque secondo me non conviene più di tanto cambiare, rifare tutto da capo Iniziamo una serie nuova, sarà figa lo stesso Anzi magari consigliatemi comunque qualche altra serie nuova che volete vedere Non so come si sentirà, non so come si vedrà, non so niente perché io non vedo lo schermo C'ho solo questo sole in faccia quindi... Va bene ragazzi, comunque Sto mezzo raffreddato anche tra l'altro, cioè stare malati d'estate ragazzi È una cosa orrenda, davvero brutta 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 Poi ragazzi per quanto riguarda Dragon Ball Mi piace come sta andando la serie Erston tra l'altro ragazzi avete visto che culo A breve dovrebbe arrivare anche un pack opening sul Gran Torneo Perché ci sta il Gran Torneo E niente, poi porterò anche tante altre partite E da settembre inizierà il Road to Legend Secondo me sarà una serie molto ma molto molto figa Ragazzi ho dovuto stupare perché c'erano dei bambini anche si sentono anche adesso Quindi ho dovuto stupare un pochino il vlog Però sono dettagli, tra l'altro c'ho i capelli orrendi Orrendi, sto andando a fuoco Comunque ragazzi, come stanno procedendo queste vacanze? Purtroppo stanno finendo ormai Ma eh sì, tra poco è arrivato settembre Chi di voi andrà a scuola, università, lavoro Ricomincerà tutto Però, però secondo me sarà un anno Dal punto di vista di Youtube Molto molto bello Perché comunque è un anno dove ci siamo anche già avviati Abbiamo superato i 2000 iscritti Arriveranno tantissime serie nuove Ragazzi davvero Sono contentissimo di come sta andando al canale Vi amo tutti quanti Ma dopo tutti, 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 tutti Ognuno di voi Mi piacerebbe tantissimo incontrarvi tutti Intanto qua mi scendono i capelli Però sono dettagli facilmente trascurabili Ho un'idea Aspetta, adesso vi faccio vedere una cosa Il signor Dork è stato rapito Ora faccio io il nuovo canale Si chiamerà Lemon Blue L'avete capito tutto? Eh? 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 Miau Pum 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 Ragazzi mi avevano addirittura rapito il vlog Questo limone qua che qua i limoni prendono vita Ma comunque Ragazzi vi stavo Continuiamo a parlare di cose serie Abbiamo staccato un po' Adesso ricominciamo a parlare di cose serie Cosa altro devo aggiungervi? Tra l'altro ho intenzione di fare una serie Una serie che uscirà diciamo la domenica Soprattutto che si chiamerà Coffee Time Dove io berrò il caffè E risponderò alle vostre domande Durante il periodo in cui bevo il caffè Finita la tazzina di caffè Finisce il video Ovvio Intanto ragazzi Ancora tu? Sì sono io E io voglio gestire il canale Oh Tu non devi gestire nulla di nulla Hai capito? Anzi Quindi ragazzi Questo qua è il nostro nuovo compagno del canale Si chiamerà Limoncello Ciao Sono Limoncello Ciao E niente ragazzi Avete capito ormai il senso di questo vlog Che non ha senso Vero? Vedete il rumore che fa Comunque Va Tu stai fermo qua Comunque ragazzi Ogni volta devo sempre degenerare Come al solito Come al solito E niente ragazzi Non so quanto sia durato questo vlog Credo davvero molto poco Molto poco Molto poco Ma comunque io vi volevo dirvi Soprattutto le cose principali Per quanto riguarda le serie La Techit La Retrocraft Prendo il telefono con l'altra mano Che sto morendo La Techit La Retrocraft Questo vi volevo avvisare Da settembre inizieranno nuove serie Sempre di Minecraft Per ora Dragon Ball continuerà Payday riprenderà Ayrton come al solito Un video a settimana ci sarà E di Minecraft ragazzi Consigliatemelo voi nei commenti Qualche altra serie Altrimenti sceglierò me E quindi Io vi ricordo di mettere un bel pollicione in su Iscrivere e commentare E noi ci vediamo In un prossimo video Al giusto Dimenticavo Anche dal limone è tutto Ciao a tutti